Bene, buonasera a tutti. Stasera siamo qui a parlare di un libro di Pierone Griscaglione, che è lui. Abbiamo qui uno schermo che ce lo ricorda. Bene, che è un giornalista e scrittore, l'ultimo suo libro è uscito abbastanza recentemente, non è questo, questa è una riedizione di un suo libro precedente, l'ultimo è un libro che hai fatto in tutti questi anni, che è una rievocazione della storia del film, c'era una volta in America, di Sergio Leone, quindi tutta la storia annosa prima del set, poi il backstage, insomma tutte queste cose qua. Un libro molto bello, ma stasera invece siamo qui a parlare di un libro precedente, del 2006, che ha avuto una gestazione molto lunga, poi Piero ci dirà, e che ha avuto una nuova edizione recentemente per l'occasione del centenario fenoglio. Centenario fenoglio, lo sapete, è andato nel 22 e ci sono state già molte manifestazioni ad Alba, Torino, in altri posti, i giornali ne hanno parlato, perché in effetti centenari, come dire, ce ne sono tanti, ma non sono tutti uguali, cioè non basta avere una certa anagrafe coincidente con l'attualità per essere degli scrittori attuali. Mentre per Fenoglio è davvero coinciso questo centenario con un momento di grande fortuna critica e di pubblico di Fenoglio. Fenoglio aumenta, diciamo, le vendite dei suoi libri a tutti gli anni, in particolare ci sono stati dei cambiamenti. Quindi se in anni precedenti il libro suo più venduto era Partigiano Johnny, oggi è una questione privata che è nettamente il libro più venduto e ha superato quindi Partigiano Johnny, quindi ci sono delle oscillazioni, diciamo. Però sicuramente la fortuna di Fenoglio è nel suo momento apicale, insomma. Questo direi per una serie di ragioni. La prima forse è perché Fenoglio ha una scrittura, per esempio nei suoi libri sulla resistenza, decisamente non ideologica e non retorica. E queste cose che l'avevano fatto criticare, cioè quando uscì, per esempio, i 23 giorni della città di Alba, perché soprattutto da parte del Partito Comunista la consideravano irriverente nei confronti della resistenza, questo trattarla in modo così disinvolto e anche satirico. e poi questo suo, nei libri anche successivi, nel Partigiano Johnny, per esempio, questo suo mostrare le contrapposizioni che c'erano all'interno della resistenza fra i vari gruppi. Tutto questo non rientrava in una visione monumentale, eroica e idealizzata della resistenza, mentre oggi, diciamo, in era, in età post-ideologica, questo atteggiamento è sicuramente quello che può interessare maggiormente anche i giovani che si avvicinano a questo fenomeno storico che è stato la fine della guerra e gli ultimi due anni di guerra e la resistenza. Secondo motivo, invece, è quello del rigore etico, cioè nei libri di Fenoglio si capisce che ci sono dei valori non contrattabili, ci sono giorni dice no a chi gli dice di mollare la resistenza in varie situazioni, perché ci sono delle cose in cui bisogna dire no e questo direi che è anche una cosa molto attuale, nel senso che nonostante il relativismo culturale in cui siamo giustamente immersi, però ci sono delle cose che non sono appunto negoziabili, ci sono dei valori per cui si deve, a cui si deve rimanere fedeli anche con conseguenze estreme come era successo negli anni della resistenza. La terzo motivo è quello della scrittura, la scrittura di Fenoglio che non fu perfettamente capita da tutti, da alcuni sì, per esempio Calvino, ma ad alcuni un po' meno, per esempio Vittorini, era estremamente fuori tempo allora e invece è molto attuale oggi, cioè se uno legge oggi Pavese gli sembra una scrittura, magari i libri sono molto belli, però la scrittura è sicuramente un po' invecchiata, mentre se legge Fenoglio la sente totalmente contemporanea, Fenoglio si nutriva anche molto di cinema, era un grande appassionato di cinema americano, subito dopo la guerra andava a vedere film quasi quotidianamente e quel tipo di, cioè io ho letto Il Partisano Johnny quando ero giovane ma allora il mio attore preferito era Humphrey Bogart e devo dire che leggendo Il Partisano Johnny io mi vedevo Humphrey Bogart lì e le battute così lapidarie, così a volte sarcastiche venivano un po' da quel mondo romantico ma con degli ideali fortissimi e quel tipo di, però sempre con poi delle invenzioni linguistiche, non trovavi mai la battuta ovvia, è sempre in Fenoglio c'è una sorpresa in ogni pagina, però quel tipo di anche montaggio cinematografico ce lo fa apprezzare come qualcosa di assolutamente contemporaneo. La critica che già all'inizio diciamo aveva capito in alcuni casi l'importanza dello scrittore, però oggi ancora di più può valutarlo, rivalutarlo perché dopo i primi anni, dopo molti anni in cui gli studiosi hanno concentrato i loro sforzi nel dibattito filologico, perché sapete che Fenoglio ha pubblicato solo tre libri in vita, tutto il resto è stato pubblicato postumo sulla base di carte, di redazioni dello stesso libro diverse, quindi i filologi devono studiare quale pubblicare, quale veniva prima, la cronologia dei testi, tutto questo è stato un caso Fenoglio che ha interessato gli studi dell'italianistica per molti anni, ma che insomma non permetteva di comprendere a pieno invece l'aspetto critico, stilistico, per esempio per dire una, insomma molti degli scrittori sperimentali, dei critici sperimentali degli anni 70, lo interpretavano la mescolanza di italiano e inglese che c'è nel Partigiano Johnny come appunto un antesegnano dei loro esperimenti che facevano di plurilinguismo, cosa che poi si è verificata fasulla perché in realtà Fenoglio utilizzava l'inglese come laboratorio intermedio per arrivare a una soluzione finale italiana, quindi era una cosa personale di avvicinamento alla forma giusta italiana attraverso l'inglese e quindi non aveva molto a che fare con certi sperimentalismi della nuova avanguardia o cose di questo genere. Oggi abbiamo una sistemazione diciamo della cronologia e della genesi delle varie opere di Fenoglio molto precisa e in gran parte devo dire lo dobbiamo a questo libro, a questo libro di cui parliamo appunto questioni private, vita incompiuta di Beppe Fenoglio perché quello che hanno fatto i filologi con tutta una serie di elaborazioni tecniche perché in realtà Piero ce l'ha fatto vedere e dimostrato con una serie di documenti, quindi lettere, pagine di diario e soprattutto moltissime interviste che ci hanno mostrato come lavorava Fenoglio e quindi quando lavorava il partigiano Johnny che non è un libro del 49 come sosteneva la mia maestra Maria Corti che per carità è stata bravissima in tante cose ma anche i grandi sbagliano voglio dire, è bello questo, è un libro del 56 che comincia nel 56 e ci sono delle testimonianze inoppugnabili che dicono nel 56, nei primi mesi del 56 Fenoglio diceva adesso voglio scrivere il mio grande libro del ciclo di Johnny che poi sarà Primavera di bellezza e il partigiano Johnny e lo voglio scrivere prima in inglese perché prima voglio trovare una forma diciamo che non sia polverosa come l'italiano che abbiamo noi nella tradizione e poi trovare dopo le parole giuste. Ecco, quindi abbiamo delle testimonianze che ci danno questa cosa qui. Quindi con tutte queste testimonianze, con tutte queste fonti documentarie che Piero è riuscito a mettere insieme noi abbiamo questo quadro. Se il pregio maggiore è avere tutta questa ricchezza documentaria però in realtà il libro, la bellezza di questo libro è il fatto che poi tutto questo come un'impalcatura di una costruzione viene portata via e rimane la costruzione cioè alla fine di tutto questo lavoro di ricerca che Piero ha fatto viene concentrato in note alla fine, in una nota diciamo di media dimensione alla fine di ogni capitolo in cui dice questa cosa qui me l'ha detta Margherita Fenoglia questa cosa qui il fratello Valter Fenoglio, questa cosa qui l'amico, il compagno di liceo il compagno di Partigiano eccetera ma invece uno legge i vari capitoli è davvero come si dice adesso un po' un modo di dire abusato ma come un romanzo ma è davvero è un libro che si legge come un romanzo perché ogni capitolo ha un incipit che è una scena, una scena emblematica dopo la quale dopo che viene descritta questa scena si comincia a fare la storia del periodo della situazione che si vuole ma c'è proprio sempre una scena icastica che ti fa entrare nel cuore del problema e comunque il libro è davvero scritto con una vena narrativa fortissima che è ricca di tutta la ricerca ma senza avere il peso della ricerca e questo ripeto è un pregio incredibile e fantastico di questo libro. Il libro ha tanti pregi poi specifici che vedremo magari nella chiacchierata, uno di questi che mi sembrano importantissimi è quello di far vedere in due capitoli diciamo dedicati alla resistenza il percorso del partigiano Beppe così che uno lo possa confrontare uno che ha letto il partigiano Gioni, una questione privata o i 23 giorni della città di Alba può capire il lavoro letterario che ha fatto Fenoglio perché uno che legge ha sempre l'istinto a pensare che tutto quello che succede nel libro è una proiezione autobiografica, in realtà la proiezione è sì, c'è una proiezione autobiografica ma molto filtrata, ci sono alcune cose, molte cose che il partigiano Beppe non ha visto di persona e che invece Gioni vede di persona e leggendo questo libro si vedono i due percorsi cioè ci sono delle citazioni, dei brani in cui si vede la letteratura e ci sono i documenti che ti dicono che cosa aveva fatto invece Fenoglio questa è una delle cose secondo me più belle anche e più interessanti del libro ma ripeto, il libro ci sono tantissimi spunti uno che magari così ti do la parola e parti tu se vuoi da questo spunto, se no da altri uno che a me sembra una puntualizzazione antropologica che viene fuori da questo libro è il fatto che Fenoglio in particolare ma non solo lui tanti altri suoi compagni partigiani, almeno per un certo periodo per Fenoglio diciamo il primo anno di resistenza diciamo dall'8 settembre all'inverno del 44 fa il partigiano non a tempo pieno entra nella clandestinità ma tornando a casa molto spesso c'è questo rapporto molto forte con la madre che è un rapporto anche conflittuale, la conflittualità verrà fuori nella paga del sabato un romanzo che poi racconta l'immediato dopoguerra e che è molto vicino alla realtà del rapporto tra Fenoglio e la madre ma invece nel periodo della prima parte della resistenza Fenoglio fa un po' il pendolare fra le colline dove va a combattere e il ritorno a casa doveva mangiare dalla mamma ecco è il padre ma col padre il rapporto è più ma poi ci sono anche in alta langa tutta una serie di parenti c'è la struttura familiare della famiglia italiana contadina che si adopera per cioè quasi mai Fenoglio ha dormito in camerata con i suoi compagni perché c'aveva sempre un parente vicino dove fosse e questa devo dire che è una situazione curiosa perché non so in quanti altri paesi non italiani esista un'idea di clandestinità così reversibile in questo modo ecco non so se questo è uno spunto che ti può suggerire già un primo intervento sì certamente sì intanto buonasera a tutti esito un po' a prendere la parola perché non vorrei rovinare quello che hai detto tu perfettamente del mio libro cui ti ringrazio moltissimo in realtà sì io devo dire che il primo diciamo appunto dall'8 settembre 43 all'ottobre 44 che sono i 23 giorni della città di Alba ecco quell'anno abbondante di Beppe Fenoglio l'ho trovato uno dei più interessanti anche uno dei più confusi perché poi succedono un sacco di cose diverse e anche un po' contraddittorie e soprattutto di tutto questo c'è pochissimo poi nei libri di Fenoglio questo ci fa capire tante cose perché per molto tempo si è andati avanti a identificare Johnny con Beppe diciamo per dirla con uno slogan e che non è esattamente l'approccio giusto io devo dire che questo libro nasceva a suo tempo da un periodo, una stagione è figlio un po' di una stagione di interesse, di lavoro su Fenoglio a cui hanno partecipato anche altre persone la più nota delle quali è Guido Chiesa il regista del film Il Partigiano Johnny che è uscito nel 2000 io e Guido ed altre persone nel 98 abbiamo fatto un documentario su Beppe Fenoglio che andò in onda su Rai 3 e due anni prima nel 96 avevamo organizzato un concerto che è diventato per chi insomma è dentro queste cose un po' leggendario dei CSI ad Alba in una chiesa di San Domenico dove c'erano alcune centinaia di persone dentro e molte centinaia di persone fuori che non potevano entrare è stato un evento abbastanza unico poi uscì un disco, un video insomma ecco lascio una certa traccia ecco dico questo anche perché quegli anni quando abbiamo cominciato a raccogliere interviste che sono servite per il documentario e poi per il mio libro sono appunto la seconda metà degli anni 90 e i primi anni 2000 in cui molti dei coetanei di Fenoglio erano ancora vivi questo è importante direi che questa è la base del libro che è un po' insolito per alcune ragioni una è che e questo spiega anche un po' il titolo questioni private è che davvero Fenoglio che è morto a 40 anni quasi 41 ha vissuto per lo più ad Alba tranne il periodo della guerra naturalmente che comunque in gran parte ha vissuto appunto nelle Langhe quindi veramente a due passi da casa da casa tua anche anche da casa mia questo è certo uno dei fattori diciamo che mi ha avvicinato a questa storia e quindi la vita di Fenoglio perché è durata così poco perché si è svolta in provincia quella che allora era vera provincia ha una dimensione pubblica molto piccola cioè ci sono molte questioni private qui in questo libro e quindi era essenziale raccogliere le testimonianze di chi aveva conosciuto Fenoglio magari anche di Pietro Citati o Livio Garzanti che erano ancora vivi all'epoca però la veramente stragrande maggioranza delle persone che avevamo intervistato che poi ho intervistato io erano i suoi ex compagni di liceo i compagni di resistenza gli amici del dopoguerra e quindi era come dire non c'era era la fonte migliore e più e anche forse l'unica che c'era quasi l'unica insomma e questo è stato credo che sia un fatto abbastanza unico tendenzialmente le biografie di scrittori hanno altre fonti che sono forse un po' più come posso dire cioè il fatto di poter intervistare e dialogare con le persone faceva sì che ci fosse una dialettica che in qualche modo ti dava anche dei punti di vista diversi che penso siano interessanti e sì l'anno di guerra in realtà lì la fonte principale devo dire è stata Walter Fenoglio il fratello di Beppe e è un tema molto molto importante anche oltre che interessante perché c'è il famoso tema della scelta no? io mi è capitato di di avere dialoghi con mi vengono in mente Luigi Meneghello e Giorgio Bocca che sono due due casi di eh partigiani che salirono in montagna sì in montagna nel loro caso veramente nel settembre del 43 entrambi e quasi subito per una serie di vicende personali e guarda caso loro due Bocca e Meneghello ebbero anche degli eh scusate scrissero anche delle cose diciamo così ehm usando un termine proprio generico ehm ehm marcatamente fasciste no? per una serie di coincidenze eh si si erano esposti da da giovani su un probabilmente anche un po' inconsapevolmente eh da quel punto di vista fenoglio no però d'altra parte fenoglio realmente diventa partigiano nell'ottobre del 44 e questo è molto curioso ha a che fare molto con la sua situazione familiare e anche con la situazione sociale di Alba che rispetto al alla guerra è un posto e al fascismo è un posto molto strano molto particolare in cui eh come non c'era non aveva vissuto eh il famoso bienio rosso insomma non c'era stato molto socialismo comunismo e non c'era stato molto fascismo ad Alba tanto che eh la giunta il sindaco popolare continuò a a governare la città fino al 25 mi pare su sulle date perdonatemi dico a memoria ma mi sembra così eh un po' nell'indifferenza generale finché arrivarono dei fascisti da fuori a a come dire far sapere alla cittadinanza di Alba che c'era un nuovo regime eh e dovevano adeguarsi in qualche modo e poi potremmo parlarne a lungo ma è una era una situazione sociale molto particolare e che aveva a che fare anche col fatto che c'era un vescovo eh che era forse l'unica vera autorità eh cittadina che era lì eh un'istituzione che durava durava da secoli e e in più c'è c'è da dire che eh Fenoglio ha un'esperienza eh partigiana molto particolare all'inizio del 44 quando ha un matrimonio di un suo cugino in Alta Langa eh finita la cerimonia e la festa eh decide di eh passare con una formazione una banda si può dire perché all'epoca era così di partigiani eh che poi lui nel nel partigiano Johnny renderà eh come dire eh molto più rossi e Garibaldini di quanto fossero in realtà perché parlando ancora appunto del febbraio eh 44 non c'era ed è un'esperienza molto breve eh che però eh contiene un'azione eh di eh a carru eh di eh saccheggio diciamo così di deposito di armi eh che lui scrive nel suo foglio di congedo quindi abbiamo tutte le ragioni di pensare che sia realmente avvenuta che probabilmente certamente così e è un'esperienza breve che finisce anche male perché poi questa questa banda viene attaccata viene rastrellata insomma finoglio però riesce riesce a fuggire e cosa succede? Va sua mamma la mamma sale su eh in alta langa lo prende e lo riporta ad Alba eh stiamo parlando di un ventenne o poco più e eh questo è molto interessante fa capire eh molte cose oggi abbiamo fatto un convegno ho partecipato a un convegno all'istituto all'istoreto e ho detto una cosa che credo da così da biografo da umile biografo per me sembra che gli storici l'abbiano confermata cioè che la storia delle resistenze è una storia di di molto di molto diversa in tutte le parti d'Italia e anche molto diversa da individuo individuo è una veramente se uno entra dentro capisce che ci sono sì delle grandi dei grandi disegni ma in realtà poi le storie individuali sono molto molto particolari molto diverse quella di Fenoglio è così lui torna a casa nel 44 e per un po' di mesi si barcamena come posso dirlo meglio di così cioè cercano di sfuggire a lui e il fratello Walter cercano di sfuggire a ai repubblichini insomma sostanzialmente che le volevano arruolare finché a un certo punto capiscono che non è più sostenibile la situazione salgono in collina però questo è il momento in cui i partigiani rientrano ad Alba per i 23 giorni della città di Alba insomma quindi questa ma è molto interessante perché poi dentro questa storia ci sono loro che vanno a lavorare per una segheria per avere lascia passare c'è un c'è un processo ci sono del come dire sequestri di alcuni padri direttamente alla leva è una storia molto complessa che però fa capire questa situazione un po' magmatica confusa e veramente anche un po' pericolosa per tanti versi che c'era in quel periodo lì insomma almeno ad Alba io voglio generalizzare beh è una cosa che è una situazione appunto molto fluida che viene ben descritta nel libro di Claudio Pavone una guerra civile di Pavone che tra l'altro riprende un un'espressione che doveva essere il titolo dei racconti del primo libro di Fenoglio cioè i 23 giorni della città di Alba è un titolo di Giulio Einaudi che perché Fenoglio voleva intitolarlo i racconti della guerra civile però era non erano i tempi giusti diciamo per usare questa terminologia perché in qualche modo equipara le due parti in campo no? e quindi venne fuori un'altra ipotesi racconti barbari eccetera poi Einaudi disse ma secondo me è anche il titolo più bello perché Einaudi comunque aveva le sue antenne per copertine titoli queste cose qui i 23 giorni della città di Alba che era poi il titolo di uno dei racconti il racconto forse più famoso no comunque nelle nelle tue interviste che tra l'altro sono molto importanti proprio perché solo nel periodo tra la prima edizione e questa edizione qui un sacco di persone non ci sono più non ci sono più anzi quasi quasi mi veniva in mente che forse sarebbe stato bello segnare però forse sarebbe stato un po' fluttuoso diciamo le persone che appunto a partire da quest'anno è morta la sorella di Fenoglio che tanto ha fatto per ricostruire anche la storia di famiglia ha pubblicato un libro oltre alle tue interviste insomma e comunque la cosa importante è che appunto tu le hai raccolte quando questa gente era viva il maestro Cerrato che è un grandissimo amico di Fenoglio c'è gente che poteva dare un sacco di informazioni e che le hai prese diciamo in tempo perché erano tutti di una certa età e quindi due persone che hai intervistato secondo me sono molto interessanti per l'aspetto di una questione privata e quindi per il ritratto di Fulvia la donna diciamo amata da Milton e perché tu hai intervistato Mimma Ferrero sì e non hai potuto intervistare Baba perché è morta nel 47 è un altro grande amore di Fenoglio un amore platonico no un pochino non platonico forse sì poi dopo diciamo è stato interrotto dalla famiglia di lei che era diciamo di estrazione sociale superiore non voleva che la figlia andasse con il figlio del macellaio perché il papà di Fenoglio era il macellaio e quindi e poi però è morta in un incidente d'auto nel 47 quindi però tu hai parlato col fratello col fratello che è morto anche lui qualche anno fa queste due donne ricostruiscono un po' l'idea di Fulvia sì sì ma io guarda credo che una questione privata sia diciamo così per comodità l'ultima l'ultimo racconto insomma e che in qualche modo scritto da Fenoglio e che in qualche modo alluda cioè ci faccia un po' intuire una direzione che lui avrebbe potuto prendere io l'ho sempre un po' vista così e questo ha in sé anche una secondo un lato B diciamo e che è una cosa che mi chiedo e la butto così perché è bello come dire pensarci chissà se il partigiano Johnny quello che noi chiamiamo così sarebbe mai uscito l'avrebbe mai pubblicato così c'è esiste anche un universo parallelo in cui Fenoglio decide di tenerlo nel cassetto soprattutto direi che è abbastanza probabile questa ipotesi dato che ha fatto morire Johnny alla fine dei Primavera di Bellezza sì esatto cioè lui aveva in mente questo grande ciclo di Johnny che prima fa l'ultimo anno di liceo ad Alba poi viene va a Roma a fare la scuola ufficiale poi 8 settembre ritorna ad Alba diventa partigiano seconda parte tutta la guerra diciamo di Langa e questo dovevano essere due ante del suo grosso ciclo di Johnny che è stato un po' ricostruito da Pedullà nel quello che si chiama il libro di Johnny in realtà poi quando gli è venuta voglia di scrivere una questione privata questa parte e non solo per quello perché Garzanti comunque insisteva che doveva finire 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 e lui il partitano Johnny ce l'aveva ancora molto in fieri quindi decide di chiudere la primavera di bellezza fa morire Johnny all'inizio va in collina e muore alla prima sparatoria e quindi lì secondo me il ciclo di Johnny finisce il partitano Johnny non l'avrebbe mai pubblicato poi è stato recuperato ecco comunque una questione privata dove c'è arriva al termine di un lungo processo che ha alcune stesure e ha anche per esempio un progetto cinematografico che Fenoglio aveva con Giulio Questi che anche lui non c'è più un grande personaggio del cinema italiano che poi ha pubblicato dopo che ci siamo sentiti per l'intervista per il libro ha pubblicato finalmente poi il suo il suo romanzo di guerra con Einaudi di cui in questo momento mi sfugge il titolo perdonatemi ma molto bello molto interessante e questo Giulio Questi è uno che mi ha raccontato nell'intervista che la delusione che ha provato quando il progetto che aveva con Fenoglio decadde perché Fenoglio morì dice probabilmente per questo che io non ho mai scritto niente sulla resistenza e poi invece poi l'ha fatto anni dopo e pubblicato è uno che ha fatto un film in cui come regista in cui la resistenza si intravede ma in realtà è un western uno spaghetti western ha trasfigurato comunque un personaggio molto interessante comunque lui in qualche modo lui e Fenoglio si incontrano e hanno il progetto di un film dove si intravede già il nucleo fondamentale della storia di una questione privata che non è niente è un racconto non è neanche un soggetto scritto è un racconto che Fenoglio fece a questi che questi ha fatto a me di come avrebbero potuto appunto sviluppare un film che è la storia appunto di un partigiano che torna a casa e scopre la moglie che ha salvato un militare credo inglese adesso non vorrei sbagliare e lui si ingelosisce e comincia a chiedersi cosa è successo tra la moglie e questo qui e no c'è il nucleo proprio della della gelosia della questione privata appunto sullo sfondo della guerra quindi lui arriva a una questione privata e che che è molto molto invenzione letteraria però ci sono alcuni punti che in qualche modo ci riconducono la sua vita certamente quello delle ragazze per rispondere finalmente alla tua domanda è uno di questi punti si è sempre detto che Fenoglio prima della guerra era appunto innamorato di questa Mimma Ferrero Benedetta Ferrero di Alba certamente è vero però a me mi sembra dal racconto che mi aveva fatto appunto il fratello di Baba che ci sia molto anche di questa Baba Martinazzi che era una torinese di buona famiglia qualcuno forse ricorderà si vedono ancora forse ai tempi l'avevo vista ancora dei manifesti pubblicitari di un liquore Vermut Martinazzi che era appunto della loro famiglia e che però appunto la mamma era vedova sfollata ad Alba perché Torino era più pericolosa e tra l'altro questa è una storia d'amore che in realtà risale a dopo la guerra immediatamente dopo la guerra l'estate del 46 c'è qualcosa tra questi due ragazzi e quando la madre se ne accorge immediatamente in pochissimo tempo decide di riportare i figli a Torino perché aveva questa figlia che cominciava a frequentare il figlio del macellaio di Alba e lei si era un po' preoccupata diciamo e quindi c'è un altro un altro nucleo narrativo che c'è dentro una questione privata perché appunto Mima Ferrero l'altra l'altra possibile Fulvia non andò mai via da Alba in realtà c'è un do via d'Alba dopo ma per tutte altre ragioni quindi il fatto che Milton cerchi Fulvia e lei sia tornata a Torino certamente ci fa più pensare a questa storia un'altra cosa che mi disse che vi dico così che mi disse Walter Fenoglio dopo quando eravamo più come dire più intimi dopo tanto tempo che ci frequentavamo io l'ho interessato molte volte e lui mi disse penso che il rapporto psicologico che c'è tra Milton e Giorgio Clerico sia che Giorgio Clerici Clerici ad Alba sono Clerico ma nel libro Clerici sia modellato sul rapporto psicologico tra Beppe e me per questa ragione Walter era di un anno più giovane ed era per certi versi il contrario di Beppe era molto estroverso un bel ragazzo aveva un grande successo con le ragazze ed ebbe poi un grande successo nella vita perché diventò un importante dirigente della Fiat mentre il fratello era diventato un impiegato di una ditta vinicola e pochi sapevano di questo suo altro aspetto e nessuno immaginava che fosse uno scrittore di quel livello lui continuava a fare carriera ed era come dire un uomo di successo l'orgoglio della mamma esatto era così e e e quindi questo è un aspetto perché racconto questo perché in realtà appunto Fenoglio è sempre stato considerato uno scrittore autobiografico che certamente lo è tutti lo sono però in maniera un po' più trasversale che va anche un pochino compresa ecco non è certamente ci sono delle vicende sue personali o dei rapporti che qualche modo entrano nei suoi racconti ma non non in maniera così diretta uno che però un episodio vero della resistenza che entra dentro nei suoi libri è quello del del sequestro di un fascista per ottenere uno scambio con un suo grande amico nel caso era cervellino no e questo in realtà non va a buon fine nella realtà perché nella realtà Fenoglio riesce a catturare uno fascista e a farlo scambiare poi lo porta diciamo a comando dove viene usato come scambio prigionieri ma non viene scambiato con quello che lui voleva avere cioè col suo amico vengono dati due partigiani ma non quello lì poi fortunatamente cervellino si salverà perché non viene fucilato viene condannato a 30 anni perché aveva avuto delle testimonianze che non aveva mai ucciso un fascista e poi naturalmente viene liberato nel carcere dove sta scontando la pena da una banda Matteotti comandata da Farinetti da Paolo Farinetti che è il papà di 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 e quindi diciamo si intrecciano un sacco di storie però questa cosa qui poi entra davvero nei libri di questo è una cosa che mi all'epoca mi sorprese molto perché non ce lo vedi Fenoglio che che cattura un fascista lo porta invece ci sono diverse testimonianze che che concordano e pare che questa cosa sia davvero avvenuta e questo era un non era certo un guerriero era uno che faceva il cuoco sembra e che però in qualche modo servì per uno scambio anche anche se non uno scambio lo scambio che voleva Fenoglio e quindi insomma questo è un fatto mi sento di affermare che è un fatto realmente avvenuto ecco e scusa la regola era un po' questa cioè che ci fosse almeno una doppia fonte su ciascun fatto in questo caso specifico ricordo che ce n'erano più di due concordi cioè molti ex partigiani ricordavano questo episodio perché non era proprio comunissimo insomma non succedeva proprio tutti i giorni hai citato questi c'è un altro regista con cui Fenoglio è entrato in contatto che è Bettettini si Bettettini conobbe Fenoglio in quanto era regista televisivo di una trasmissione molto popolare quando io ero appena nato forse tu non ero ancora nato io non ero ancora nato era Campanile Sera era una delle delle prime televisioni fine anni cinquanta anche forse primi sessanta o forse primi sessanta e la trasmissione metteva in competizione due piccole città o due paesi che si sfidavano con delle domande e Alba vinse per quattro volte consecutivamente era la campionessa e Fenoglio faceva parte del cosiddetto pensatoio che era il regista di questa cosa qui il presentatore era Enzo Tortora giovane e il regista era Gianfranco Bettettini che poi diventa un famoso semiologo insegnò alla cattolica a Milano per tanti anni ma lì faceva il regista televisivo e facendo amicizie in questa occasione con Fenoglio anche a loro venne in mente di fare un film un film che sembrerebbe più neorealista diciamo non è la storia di un di un langhetto diciamo di un uomo di langa inurbato che torna con la moglie cittadina nelle langhe quindi il conflitto diciamo tra la vecchia e la nuova e la nuova langa e anche questo non si fece però allora c'è una cosa da dire volevo dirla prima e approfitto adesso per per raccontarla un mese fa sono stato a Montebelluna in provincia di Treviso dove un liceo tra l'altro liceo Primo Levi una di queste scuole nuove che a me sembra una cosa pazzesca c'è un liceo che ha tutti i licei dentro non sapevo che esistessero invece mi hanno detto no no è così è molto grande tipo mille studenti una cosa e c'è un professore appassionato di Fenoglio come succede che da un anno fa lavorare le quinte le quarte su Fenoglio e hanno fatto dei lavori incredibili testi teatrali e a un certo punto una classe mi pare una quinta ha presentato il proprio lavoro che avevano fatto e hanno detto una cosa per cui io le ho ho detto ma voi siete dei geni siete eccezionali hanno fatto un parallelismo tra la scena finale di Abu D'Souf del film e una questione privata e io ho detto ma io non ci avevo mai pensato ma è vero è la stessa cosa siete fantastici c'è Milton che corre e non si capisce cosa sta facendo è molto strana quell'ultima parte di una questione privata è quasi è quasi un po' no Calvino direbbe Ariosto no è quasi irreale però dentro una situazione di realismo assoluto il paese a un certo punto mi pare che ci sia una maestra con gli studenti e loro hanno fatto questo parallelismo che mi ha che mi ha convinto subito e poi sono andato a vedere quando è uscito fino all'ultimo respiro e ci sta e sono quegli anni lì esattamente potrebbe essere questo per dire della passione per il cinema che è un aspetto di Fenoglio di cui non parla mai nessuno mi piacerebbe che qualcuno lo studiasse questo perché è molto interessante da vari punti di vista c'è stata una persona che mi ha detto che una questione privata specialmente il progetto di film che aveva in testa con Giulio Questi è preso in alcuni aspetti da Sentieri Selvaggi di John Ford con John Wayne non so se lo ricordate è un film di un razzismo che per noi oggi insopportabile ma allora andava e qui questi questi Pelle Rossa praticamente rapiscono una famiglia intera soprattutto le ragazze danno fuoco alla casa e sono certo che Fenoglio amasse quei film lì Sentieri Selvaggi del 56 quindi siamo proprio in quel periodo lì e lo dimostrano anche questi progetti cinematografici che lui aveva per esempio anche Shasha che è un anno in più del 21 un anno prima di Fenoglio mi raccontava suo nipote era un grande amante del cinema il suo grande rimpianto tutta la sua vita è che non ha mai scritto per il cinema cioè da Shasha sono stati tratti molti film ma non ha mai scritto doveva scrivere perché c'era una volta in America ma poi poi mollò probabilmente perché c'era un'incompatibilità con Leone sì sì credo personale è una cosa generazionale lo stesso Leone adesso qui parlo è del 29 quindi un po' più giovane però tra l'altro anche mio padre era del 29 quindi ne abbiamo parlato mio padre è mancato molti anni fa ma ne abbiamo parlato e parliamo di una generazione che non aveva la televisione e che andava al cinema cioè andava normalmente al cinema anche tutti i giorni potendo e quindi questo è un aspetto degli studi su Fenoglio che secondo me sarebbe bello assolutamente non io ma qualcun altro lo può fare sono d'accordissimo e però uno che magari aveva delle sbagliate ma aveva delle insomma sapeva capire intuire delle cose era Vittorini e infatti stroncò cioè non pubblicò la paga del sabato che venne pubblicato poi postumo nel 69 mi sembra da la Grignani ma gli venne proprio bocciato nonostante che a Calvino fosse piaciuto ma Vittorini era responsabile dei gettoni e non lo volle nei gettoni perché c'è una lettera di Vittorini in cui spiega una scheda in cui dice è troppo cinematografico sembra che sia costruito come un film e questo che allora voglio dire l'aveva capito era intelligente l'aveva capito bene però quello che allora era un difetto oggi invece è un pregio infatti qualche anno fa uscì un pezzo molto bello di Alessandro Baricco che diceva ho riletto non so per quale ragione la paga del sabato e ragazzi è bellissimo per lui è il romanzo di Finoglio più bello l'ha detto appunto in varie occasioni e io concordo non so se sia il più bello certamente secondo me uno dei più belli e la cosa interessante è che fu scritto appena dopo la guerra insomma quando davvero il tema del del reducismo si era era caldo perché è la storia di un reduce che non si adatta dopo aver fatto la resistenza non si adatta a trovare un impiego mentre la madre continua e questo è davvero era molto simile a quello che succedeva in casa Fenoglio ma insomma la madre gli chiede di trovare un lavoro di portare a casa soldi e lui non trova niente non vuole trovare niente e questo a differenza di Fenoglio si infiltra insomma nella malavita e finisce male ecco diciamo questo anche qui ci sono degli elementi di come posso dire di realtà no? anche ad Alba ci furono delle storie di partigiani che diciamo così facevano fatica a rientrare nella legalità e che fecero delle rapine certamente il rapporto con la madre era ricalcato però non è quello il punto ecco diciamo di Fenoglio cioè il punto di Fenoglio è come sempre esistenziale alla fine tutti gli tutti gli eroi di Fenoglio muoiono questa è la verità cioè e la 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 prodo finale di queste storie eh individuali eh sostanzialmente eh con una visione tragica dell'esistenza insomma no? questo credo che sia questo bisognerebbe dire di Fenoglio credo io e anche questo secondo me dipende da può dipendere da da quel cinema che 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 lui vedeva in quegli anni che è molto diverso da quello di oggi, nel senso che oggi praticamente se non c'è un lieto fine un film non va nelle sale, mentre invece allora era normale che ci fosse un finale tragico e quindi forse c'è anche l'aspetto sicuramente dell'esperienza per cui aveva visto morire tanti suoi compagni a partire da Tarzan di cui fa poi l'elogio pubblico eccetera un partigiano di 19 anni che muore a Valdevilla dove c'era Fenoglio, era una delle battaglie in cui Fenoglio c'è stato per davvero e quindi c'era la parte dell'esperienza ma c'era anche la parte della fiction che lui aveva visto tutto concorreva ad avere un quadro tragico della lotta per l'esistenza non so quanto tempo abbiamo ma vorrei farti almeno un'ultima domanda sul capitolo finale perché abbiamo detto che questa è una nuova edizione con un capitolo aggiunto è un capitolo che fa riferimento alla scoperta delle armi di Fenoglio che alcuni anni fa quando Margherita Fenoglio, la figlia quando è morta la madre di Margherita, cioè la moglie, Luciana Bombardi, la moglie di Fenoglio in tarda età Margherita è andata come succede in queste cose a rovistare nell'armadio della madre e ha trovato sotto un telo azzurro una pistola, una carabina e un cinturone che erano stati appunto del padre di Beppe e tu approfitti di questa cosa per fare un capitolo in cui cerchi di gettare anche un po' di luce sull'ultimo periodo della resistenza quando Fenoglio non era più in Langa ma era stato distaccato nel Monferrato come uomo di collegamento con gli alleati quindi un ufficiale di collegamento con gli alleati e probabilmente è lì che ha preso queste armi ma insomma di tutto Sì, il mistero non è risolto completamente però io penso di sì Sì, soprattutto la pistola credo che gli sia stata, non era così comune che avessero una Colt Calipro 45 i partigiani però lui ne aveva bisogno in quanto proprio per questo tipo di missione che gli era stata affidata aveva necessità di avere un'arma piccola un'arma facilmente trasportabile Sì, questo ritrovamento delle armi è avvenuto nel 2013 e mi è parsa l'unico grande evento sulla vita di Fenoglio della vita di Fenoglio accaduto dal 2006 al 2022 per cui ho pensato subito di, in realtà ho pensato di, all'inizio quando è nata l'idea di fare una nuova edizione del libro anche perché la vecchia edizione era esaurita e poi perché eravamo nel lockdown del 2020 della disperazione totale e io ho reagito pensando progetti, diciamo, di cose da fare e mi era venuta questa idea perché ovviamente il 2022 è il centenario di Fenoglio e perché volevo raccontare in realtà questa storia qui perché queste due armi sono le armi che Fenoglio assegna a Milton in una questione privata sono esattamente quelle se uno conosce le armi e poi legge una questione privata pensando alle armi capisce che sono quelle e la colte è quella che spara nella schiena del fascista catturato qui faccio spoiler liberamente perché tanto una questione privata l'abbiamo letto tutti, no? Credo sì e poi perché c'è una grande domanda a cui è interessante rispondere perché Fenoglio tiene le armi, le conserva in casa e io sono andato a rileggermi le mie vecchie interviste su cose che avevo un po' trascurato e Walter Fenoglio a un certo punto mi dice sì, lui la carabina non l'ha mai restituita a un certo punto l'ha esposta nel soggiorno di casa sua quindi era appesa come un quadro in casa Fenoglio e se uno comincia a provare a rispondere a questa domanda vengono fuori tante cose perché c'è un aspetto diciamo così pubblico, politico della scelta di conservare le armi e allora sono stato all'istituto storico a parlare con il professor Boccalatte che mi ha raccontato che sostanzialmente tutti i partigiani avevano un motivo valido per tenere le armi i monarchici perché speravano di riportare il re sul trono i comunisti perché chi lo sa poi quando sparano a togliatti molte di queste armi improvvisamente spuntano fuori e poi il partito stesso dice rimettetele via insomma adesso non faccio tutto l'elenco però credo che per Fenoglio fosse un po' diverso fosse questo l'aspetto diciamo politico forse anche un aspetto se devo dirlo adesso la dico un po' così male però ci capiamo anche un po' estetico perché effettivamente sono d'accordissimo perché le armi sono belle cioè ragazzi non so se avete visto la copertina del venerdì di Repubblica della scorsa settimana ho trovato una bellissima copertina che così diciamo è nata un po' insieme quindi lo dico così un po' però ne sono convinto realmente erano poi armi americane che probabilmente a una persona come Fenoglio rappresentavano come posso dirla diciamola così il bene il nuovo il moderno no? se voi guardate la pistola la Colt 45 è una pistola progettata nel 1911 ma ha una linea pazzesca di una modernità incredibile e quindi quello è un aspetto e poi certamente c'è l'aspetto del legame diciamo così sentimentale assolutamente con un'esperienza irripetibile pazzesca che attraversa la vita di questi ragazzi a vent'anni ventuno ventidue lui era un duro sentimentale no? e quindi questa cosa qui sicuramente era un legame col suo passato col passato di tante persone che non poteva essere restituito cioè e quindi non credo proprio anch'io che le tenesse per con intenti di riutilizzo rivoluzionario eccetera perché Fenoglio non era un rivoluzionario non è non è non è mai stato comunista non è non aveva certo però non si abbandonano le armi che ti sono state compagne in quelle situazioni lì sì 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 e sì e in più questa è anche un po' la scusa per raccontare appunto gli ultimi mesi di guerra di Fenoglio che sono molto interessanti che si svolsero in solitudine per certi versi era con era con altri partigiani certamente ma non con i suoi compagni Tec Tec era con Tec Tec piacerebbe di sapere di più su Tec Tec grande personaggio Robin Hood una specie di Robin Hood del Buonferrato che dopo la guerra di Vagoma perché la mia famiglia è in parte originaria di Moncalvo e in provincia di Asti e Tec Tec ne ho sempre sentito parlare vagamente in casa mia con toni di riprovazione perché lui dopo la guerra apri un casino ebbe questa idea di aprire un casino in un palazzo storico di Moncalvo e glielo fecero chiudere chiudere praticamente subito insomma era un tipo molto bizzarro c'era un amico di mio padre che poi fece per tutta la vita il croupier a Saint-Ven-Saint dopo questa esperienza sono personaggi diciamo un po' ecco per dire una cosa più seria c'è un po' di rammarico perché abbiamo perso veramente un sacco di tempo a raccontare la guerra è giusto così perché era lo spirito del tempo in base a come dire a un utilizzo per la polemica politica contingente di quelle vicende quando sarebbe stato più bello raccontare i casino raccontare sì avessero avuto gli americani la resistenza ragazzi avremmo non so quanti film avremmo già visto di queste storie altro che il far west a confronto era una stronzata il far west diciamo la verità la realtà vera della frontiera e invece la resistenza aveva una potenzialità di storie e noi però questo è il nostro è il nostro animo come posso dire la nostra cultura forse però Fenoglio un po' aveva quell'idea lì io mi difendo dicendo questa cosa qui che forse non è riuscito ad esprimere fino in fondo perché purtroppo a 40 anni è morto e è così e appunto rimane rimane un grande autore è incompiuto vita incompiuta di Beppe Fenoglio direi che il sottotitolo la dice giusta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti